Pasta, verza e salsiccia. Inverno, non ti temo! Lessiamo in acqua salata 500 g di verza tagliata a striscioline. Intanto in una padella facciamo soffriggere uno spicchio d'aglio con un po' di peperoncino. Spezzettiamo e facciamo rosolare un paio di salsicce. Scoliamo la verza e ripassiamola in padella. E nell'acqua di cottura della verza buttiamo 320 g di rigatoni per 4 persone. Scoliamo la pasta e ripassiamola in padella. E buon appetito!